Lo speciale di oggi che affrontiamo oggi è legato al bando periferie, alla dilemma di queste ore, che non è poi tanto di queste ore, se sia questo una sorta di mutuo, cioè l'accordo stipulato quattro anni fa tra il sindaco Mastella e il governo che in qualche modo permette lo stanziamento di fondi per mettere mano a questa grande iniziativa che riguarda il centro di Benevento, anche se si tratta di periferia, ma non è periferia affatto perché riguarda Piazza di Risorgimento, riguarda Terminal Bus, quindi la zona più centrale della città. Dicevo, se sia da considerare questo accordo una sorta di mutuo, cioè il Comune di Benevento ne accende uno in base all'accordo con il governo e quindi con la Cassa Depositi e Prestiti, o se sia soltanto un'anticipazione di Cassa, in maniera di dire la Cassa Depositi e Prestiti eroga, lo Stato paga e il Comune di Benevento di nuovo salda la Cassa Depositi e prestiti, è un passaggio un po' farraginoso, ma in realtà è questo. Però sul discorso legato al fatto che sia un mutuo o non sia un mutuo, poggia molto anche del discorso politico riguardo al passaggio consigliare che si dovrà fare appunto a breve per vedere appunto di approvare questa iniziativa che è un po' il core business dell'intera avventura mastelliana a Palazzo Mosti. Perché? Perché se si tratta di un mutuo il regolamento del Consiglio prevede che per approvarlo ci voglia una maggioranza qualificata, 17 voti a favore e con i tempi che corrono sarebbe davvero impegnativo riuscire a racimolare tanto consenso vista anche la frammentaria situazione legata alla maggioranza di Clemente Mastella. Se non è un mutuo ma soltanto un'anticipazione di Cassa allora ci sarebbe bisogno di soltanto di 15 voti a favore e sarebbe più semplice approvare il documento, salvare l'amministrazione e andare avanti fino alla scadenza naturale del mandato. Tutto questo ovviamente è stato anche oggetto di discussione politica. Oggi si è riunita la commissione lavori pubblici, se ne è discusso parecchio con il capogruppo della lista Mastella al comune di Benevento Giovanni Quarantiello che insomma spiega le ragioni di questa difficile interpretazione. Dice in realtà sì è detto mutuo ma in verità si tratta soltanto di un'anticipazione. Non sarà difficile trovare anche l'accordo politico perché in fin dei conti a tutti conviene che si vada avanti e che si trovi poi in effetti una soluzione concertata al problema. Naturalmente tutto è rimandato alla riunione del Consiglio che ci sarà probabilmente a giugno, probabilmente a Palazzo Paolo V per il fatto del distanziamento fisico tra l'un consigliere e l'altro e lì si dovrà in qualche modo capire come evolverà la situazione. Allora sentiamolo proprio il consigliere Quarantiello, capogruppo della lista Mastella, in merito a questo amletico dubbio. Ho letto un po' le carte, sicuramente quello che dico non è la Bibbia perché voglio dire può darsi pure che ci sia qualcuno che mi smentisca anche perché io non è che sono della materia, però un po' di esperienza, voglio essere un po' presuntoso, in tutti questi anni l'ho fatta e quindi avendo letto un po' le carte ho capito, continuo a dire per quel piccolo che so, per quel poco che so, che chiaramente il Comune di Benevento per il piano periferie ha firmato dei contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Impropriamente a mio modesto punto di vista vengono chiamati mutui, impropriamente perché la Cassa Depositi e Prestiti per quanto riguarda il piano delle periferie è come se facesse un'anticipazione al Comune di Benevento quando vengono rendi contati i lavori, dopodiché quei soldi di quei progetti che sono stati approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con convenzione sottoscritta dal nostro Sindaco vengono restituiti al Comune di Benevento e il Comune di Benevento li dà alla Cassa Depositi e Prestiti. Perché secondo me vengono detti impropriamente mutui perché se la Cassa anticipa i soldi e questi lavori vengono fatti nell'arco di un anno e mezzo, due anni, in quei due anni e mezzo il Comune di Benevento deve pagare la quota di ammortamento. Ecco il discorso di essere chiamato mutuo, ma non è un mutuo. Poi se il Comune invece una volta che ha avuto l'anticipazione della Cassa e ha avuto poi i soldi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovesse decidere eventualmente di non restituire questi soldi alla Cassa Depositi e Prestiti, così come c'è scritto nel contratto fatto con Cassa Depositi e Prestiti e quindi volesse fare dei mutui, è libero di farlo e allora in quel caso poi il discorso cambia e allora da prestito e quindi con restituzione dei soldi del Ministero diventa praticamente un mutuo vero e proprio. Che significa che in quel caso il Comune prende i soldi dallo Stato e non li versa a Cassa Depositi e Prestiti. Questo in effetti è stabilito in un futuro non vicinissimo, ma intanto adesso c'è la votazione del bilancio preventivo, bisogna capire come si si arriva. Poi se il Comune deciderà di cambiare i crismi dell'operazione, è un altro discorso, ma adesso bisogna andare a votare ed è di rimente sapere se si tratta di un mutuo oppure si tratta di anticipazione di Cassa. I numeri in questo caso sono importanti. E continuo a dire, per quello che ho detto, a mio modesto punto di vista, siccome secondo me non trattasi di mutuo, ma solo di anticipazione, bastano 15. E qui è il discorso che fa Giovanni Quarantiello. Abbiamo però poi rivolto la stessa domanda all'assessore ai lavori pubblici che è Mario Pasquari, il quale non è poi tanto ottimista su una soluzione semplice del problema. Dice che qui si parla di mutuo, il regolamento dice che i mutui per approvarli hanno bisogno di una maggioranza più robusta e parla di 17 voti favorevoli che in momento attuale Mastella dovrà sudarseli, per dirla così, per poter approvare il passaggio importantissimo. Non soltanto per sopravvivere politicamente, ma per dare anche la stura a questo intendimento di carattere economico che è stato voluto sin dagli primordi della Giunta stessa. Sentiamo Mario Pasquarello proprio in questo delicato intervento esprimere più di una perplessità e essere anche un tantinello preoccupato. Per quanto riguarda lo strumento finanziario, seppur sui generis va definito un mutuo, perché di tanto si tratta anche se con delle modalità particolari poi di estinzione. Quindi parliamo di mutuo e al momento il nostro regolamento prevede che se ci sono i mutui ci vuole la maggioranza qualificata dei 17. Però io credo di dire dal punto di vista politico che non dovrebbero esserci problemi, nel senso che immagino che per una cosa del genere, per il bene della città, non credo ci sia chi voglia assumersi la responsabilità. In questo momento è una cosa positiva come il bando periferie perché sarebbero gli unici mutui presenti di non dare il loro voto. Poi siamo qui, noi siamo per fare, non per galleggiare. Per cui il piano periferie va realizzato, bisogna dare un'accelerazione, bisogna cominciare a fare le gare, sia per la progettazione, lì dove ancora non c'è la progettazione, sia quelle che sono già pronte per poter appaltare le opere. Quindi non vedo grossi problemi. Poi chiaramente in politica ognuno si assume le sue responsabilità. Noi siamo tranquilli, il sindaco ha detto che abbia ritirato le dimissioni per fare qualcosa, non per vivacchiare. Viva Dio lo ha fatto, vista anche l'attuale emergenza sanitaria. Siamo tranquilli, andiamo avanti. Siamo tranquilli, andiamo avanti.